Oh, bravo! Nicolaus, ma dov'eri finito? Ma chi è questo qua? Dov'è il coreografo? Signori, signori, buonasera! Eh sì, buonasera! Io sono Nicolaus Zopas, grande coreografo della Scala, di casa mia. Ah però, e cosa fa qui lei, scusi? Vi devo presentare la classe top di questa scuola, anzi la classe TAP. Ah però! Signori e signori, le paperette! Che spettacolo, signori! Grazie! Grazie a tutti. 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 Unisci. Semana. Serpentone. E fila. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Zoppas. Zoppas. Accompagni il suo corpo di ballo fuori. Grazie. E vogliono. E vogliono ancora un applauso forse.